Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. questo io oggi in verità avevo pensato di partire da un'altra cosa, poi l'anno prossimo avrete gli esami di maturità e voi siete il quarto adesso. Ancora di quest'anno l'esame di maturità avrà una prova su cittadinanza e costituzione, l'anno prossimo dovrebbe entrare in programma l'insegnamento dell'evoluzione civica. Non so perché l'hanno chiamato così che è una cosa un po' di una storia elementare, comunque va bene, non ha importanza, diciamo non è importante, l'importante è quello che sarà il contenuto e il cuore di questa questione. Ora io vi volevo parlare, cominciare a parlare della Costituzione e spero di farlo diciamo anche abbastanza brevemente in maniera da lasciarti spazio, partendo da un articolo della Costituzione che mi riguarda molto da 10, ma è l'articolo 34, quello che normalmente si dice è l'articolo che prevede il diritto allo studio. In verità i costituenti avrebbero potuto scrivere ogni cittadino ha diritto allo studio. Invece hanno scritto una cosa pazzesca secondo me. non hanno parlato del diritto allo studio, non l'hanno proprio menzionata, hanno scritto una cosa che secondo me è diragiosa, lo scritto la scuola è aperta a tutti. Ora per fare che questa affermazione abbia una suggestione che guardate, io che amo la Costituzione e la studio continuamente non riesce mai di scoprire quanta roba c'è dentro, la trovo una delle più belle, perché? Innanzitutto perché dare idea di una comunità ugualitaria, no? La scuola è aperta a tutti, quindi assolutamente ugualitaria, oltre che di apertura di questo luogo pubblico, io noto se voi ci pensate, quando parlo normale del nostro paese, io penso che comunque, ogni mattina, in quibili luoghi d'Italia, suonano una campanella e si aprono a scuola, si aprono le cancelli di una scuola, i ragazzi vanno in classe, trovano un'insegnante e fanno lezione, a me questa cosa fa, come dire, è quasi il miracolo. Quindi una comunità ugualitaria in cui il diritto allo studio, come l'ho chiamato prima io, cioè l'apprendimento, non è solo il diritto individuale, ma è appunto un valore collettivo generale. La scuola è aperta a tutti e esprime l'idea di un valore collettivo generale, non solo, di tanti diritti individuali, uno vicino all'altro. E' una disposizione che i costituenti vorrebbero mettere subito dopo l'articolo 33. Che dice l'articolo 33? Dice l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Ora, a parte il fatto che è scritto benissimo, no? Perché sono appena, l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Ma a parte questo, leggendole un attimo, alla luce di quello che era il contesto storico e politico in cui questi due articoli vennero formati, secondo me quasi rivela una caratteristica della Costituzione, che io penso si possa definire una magnifica eressica. Perché quando la Costituzione venne scritta era davvero una magnifica eressica, la cesura con fascismo, era nettissima. La scuola fascista non conosceva la libertà di insegnamento. Cominciamo da questo. Andava ispirato a un pensiero unico, che era quello fascista appunto. Conteneva una buona dose di indottrinamento di biologia fascista e comportava anche l'allontanamento dagli scuola, per chi non la pensasse, allo stesso modo e insegnasse, diciamo, fuori linea rispetto, fuori assi rispetto a quello che era il turismo ufficiale. E venivano adoperati non solo i professori Miceo, ma anche i maestri elementari. Io ne ho conosciuto un maestro elementare socialista che lavorava in un paesino dello strafondo della Sicilia. Lo cacciarono. Ed è il padre mio cognato, che poi è diventato un intellettuale importantissimo, è dovuto andare dal suo paese, se ne andò in un paese, nella provincia di Napoli. Ma veniva abbandonato dalla scuola perché era socialista e questo è proprio il fatto che quando venivano i Gerardi, c'è andato il maresciallo dei Carabinieri e gli dicevo, professore, perdoni, si chiamavano professore, è proprio maestri elementari, professore, mi perdoni, ma sa, dobbiamo chiudere. E lo chiudevano in cella di sicurezza, che era proprio il Gerardi fascista. Non se ne fosse andata. Ma ci fu anche il mio figlio, mia madre aveva una compagna di scuola che si chiamava Esther, lei era al gimnazio, al portogimnazio, era una sua compagna di classe, era anche brava, ci fa mia mamma, è giusto tutto Esther, un giorno non venne più a scuola, e insieme a Esther fu una lontanata da scuola anche le due professioni. Perché? Perché erano ebrei. Perché sono degli anni che vanno dal 38 a 39 le misure delle cosiddette leggi ranziari. E la prima legge ranziare, la prima di tutto fu quella del settembre del 38, se non ricordo male, fu dedicata alla difesa della razza nella scuola fascista. E nel luglio del 38, peraltro, era uscito questo manifesto della razza o manifesto degli scienziati ranzisti, che al settimo punto diceva, è tempo che gli italiani si proclamino francamente ranzisti. Peraltro, le docenti, le donne, erano escusi dall'insegnamento di alcune materie per cui la filosofia e anche da alcuni gradi di istruzione. Mia nonna era laureata in matematica e poi in fisica, allora era un'università, ma non poter insegnare più nell'istituto tecnico, allora facevano insegnare nei licei. E a un certo punto addirittura con un reggio decreto venne decretato un aumento delle tasse scolastiche e universitarie per le studentesse. E le tasse aumentarono fino al 50%, guardate che era un segnale chiarissimo, no? Di esclusione. Allora, questa era stata la scuola fascista fino al giorno prima che i costituenti scrivessero, la scuola è aperta a tutti, l'arte e la scienza sono libri e libero è l'insegnamento. ma vedete le cose che è rivoluzione? Che era, era veramente un sovvertimento di un ordine, che era un ordine politico, sociale, non era solo politico, era anche sociale, era anche di relazioni e che era entrato in campo l'idea dell'urelianza e l'idea della libertà che era legata a un popolo che sa. Sa quello che gli serve per capire come scegliere dove andare. Quindi la conoscenza diventa un'arma essenziale. Era proprio una cosa da visionari. Pensate che dopo che approvarono questi articoli li costituendo in discussione ancora fra di loro dicendo ma per noi ci rendiamo conto di quello che abbiamo scritto, di cosa significherà in termini di sforzo straordinario non solo organizzativo, fare funzionare le scuole, ma uno sforzo culturale. Perché gli insegnanti, i presidi e i ragazzi fossero messi nelle condizioni di praticare la visionarietà di libertà e di governanza della Costituzione, che in Costituzione avevano scritto. Ma i costituenti eravano che si fermavano a questo perché non è solo un diritto l'apprendimento, è anche un dovere. Ecco, sappiamo che questo limite è stato sempre spostato, no? Quindi i costituenti si rendevano conto che dovevano mettere accanto a un diritto anche il dovere. Ma perché è obbligatoria? Perché l'idea della partecipazione di tutti i cittadini senza distinzione, eccetera, 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 articolo 3 è l'obiettivo finale che la Costituzione si fa. Perché la Costituzione vuole costruire, se dovessimo riassumere quei due parole, dove, a cosa vende la Costituzione? Riassunto, a costruire una società giusta. Per fare questo non bastano poche menge illuminate. Ci vuole una partecipazione effettiva di tutti i lavoratori, poi vedremo che significa lavoratori secondo i costituenti, alla vita sociale, economica e politica. E per fare questo ciascun cittadino ha dei diritti fondamentali, ma anche dei doveri nei confronti di se stesso e della propria comunità. Quindi l'istruzione è un diritto, l'apprendimento è un diritto, ma è anche un dovere. E l'istruzione è obbligatoria fino a un certo grado. Il lavoro è un diritto, ma è anche un dovere. Hai il dovere di contribuire, dice la Costituzione. Con il tuo lavoro avete i limiti delle tue capacità. e perché l'opera è collettiva. E qui entra in campo un'idea della politica, che io ritengo, come dire, imprescindibile per chiunque cominci a esercitare ruoli che hanno carattere politico, quello della rappresentanza degli ordeni siniscolari. La politica è un'opera collettiva. Non mi fate prognare dei dirismi, dei protagonismi, tutta fuffa. La politica che muove i paesi, che muove le comunità grandi, piccole, la scuola, il paese, la città, la nazione, la regione, è un'opera squisitamente collettiva. E per essere un'opera collettiva occorre che tutti partecipino sapendo, non facendosi ingloignare, sapendo, conoscendo, portando la propria idea. Non è necessario essere scienziati. Basta riuscire a coniugare l'idea che ciascuno di noi ha dentro, che ciascuno di noi ha dentro, l'aspirazione alla libertà, l'aspirazione all'uguaglianza, no? L'aspirazione alla vita, un'esistenza libera e dignitosa, solo usando parole della Costituzione. Coniugare questa propria sensazione con la partecipazione e con la volontà di contribuire al progresso del proprio paese. che poi, come sempre, il benessere collettivo diventa benessere. Dice a scuola, tanto è vero che nell'articolo 2 della Costituzione i costituzionali parlano degli interrogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. e lo rileggo tutto per capirci. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, la scuola in cui si svolge la sua personalità e richiede la Repubblica, che non è lo Stato, non è il Parlamento e il Governo. La Repubblica è lo Stato comunità e lo Stato apparato. La Repubblica richiede l'avventimento dei doveri indelogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E che cos'è questo dovere di solidarietà politica? Che cos'è il dovere dei costituenti? Ecco, ve l'abbiamo detto prima. E' innanzitutto l'altra faccia del diritto, sempre e sempre l'altra faccia del diritto. Lo dicevamo su una questione, diciamo importantissima, il diritto al lavoro, non è il diritto al lavoro, ma è il governo di lavorare. E soprattutto succede una cosa interessante, che questa responsabilità che si dà ai cittadini di esercitare poteri indelogabili di solidarietà politica, economica e sociale, cambia un poco l'idea del dovere che c'era nel sistema liberale. Il sistema liberale il dovere corrispondeva, diciamo, a un comando, no? Chi è gerarchicamente e sorordinatamente ha un comando e io il dovere di fare. Se sono un impiegato pubblico c'è qualcuno che mi dà l'ordine e io devo essere pubblico. Nella Costituzione, il suo dovere non è soltanto questa articolazione semplice, lineare, tra chi comanda e chi è il dovere di obbedire, ma è un dovere nei confronti di se stessi e della comunità. non fa la desideratura, si opera, si vive. Quindi è una, vuol dire, morale del mondo, proprio diversa rispetto a quella proprio del sistema liberale. Diciamo che in qualche modo è una distruzione costituzionale, cioè in qualche modo è davvero una rivoluzione anche da questo punto di vista. Stefano Ortodà diceva che tutta la Costituzione è una trama fitta di diritti e di doveri. E' esattamente così. Tutta la Costituzione è una trama fitta di diritti e di doveri. E quando si parla di doveri, si parla di doveri nei confronti di se stessi e nei confronti della collettività. Per esempio, se i pubblici funzionari hanno il dovere di adempere le condici fine e onore, in verità questa disciplina e questo onore, che vuol dire? Vole dire, per tanti di voi che andranno a lavorare nella pubblica amministrazione, che si richiede che stiano congiunti attraverso la vostra opera, il vostro lavoro, se mi usano una parola che è mutua da un altro lessico, la vostra testimonianza, che si possono tenere insieme moralità e istituzioni. Moralità e istituzioni. Dignità e onore significa che tu, che sei, qualunque tipo di dipendente pubblico, qualunque tipo, puoi essere il grande direttore generale del mega ministero, ma puoi essere anche un impiegato qualunque, anche se lo Stato dipendi dal tuo Stato imparato, devi dimostrare nel tuo lavoro che sei in grado di svolgere le tue funzioni con dignità e onore. che riesci a tenere insieme moralità e istituzioni. Voi non sapete bene che diffondere questa percezione potrebbe significare per l'immagine stessa del nostro Paese. Insomma, io vi voglio lasciare andare tutto questo che scrive un patriotismo costituzionale, che non è escludente rispetto al patriotismo come ce lo provinano in chiave sovranista tanto spesso in questo periodo, ma è quel patriotismo che non è fatto soltanto di mettersi la mano sul cuore quando suona l'inno di Mameli, che pure è una cosa che se dopo mai male non fa, anzi, è anche un bel vedere. Pensate che Ciampi, fu Ciampi a convincere i giocatori della nazionale di calcio a cantare l'inno di Mameli, perché, come dire, significava dal punto di vista simbolico, moltissimo significava. Ma, diciamo, non è solo questo, è anche quel pezzo di lavoro che vi dicevi, io non vi voglio tenere qua ancora per molto tempo, siccome vi approssimerei allo studio e allo lettura della Costituzione, e ci sarà chi di voi si appassionerà all'articolo 3 sul principio di uguaglianza, se volete ne parliamo, chi magari si appassionerà da parte dei diritti sociali, chi invece sarà più interessato a come funzionano le istituzioni. Io voglio dire una cosa che ho riscontrato un po', c'è una riflessione che nasce da quello che ho riscontrato in questi ultimi mesi. La Costituzione, rispetto a quando ero ragazza io, è diventata molto più popolare, tutti parlano della Costituzione, tutti dicono, è incostituzionale, questa norma è incostituzionale, ma questa cosa non è incostituzionale, cioè si dice molto spesso, questo è un bene, questo è un bene, sapete perché è un bene? Perché chi dice, ma questa norma non è incostituzionale, in qualche modo lo dice perché, c'è un giustizia che l'ha colpito, quello sta per colpire, tendenza che il luogo della giustizia sia la Costituzione, giusto o sbagliato che sia, va bene così, va bene così vuol dire che c'è il senso di un luogo, che è il luogo dell'equità, dell'uguaglianza, della libertà e che quella parola scritta è così difficile da imperare, dicono i giuristi, ma poi magari rispondendo alle vostre domande di questo parleremo. però state attenti, la Costituzione non è il te che vuoi, non è che la Costituzione vuoi prendere quello che ti piace, ma quando ordini il sushi, ordini l'hamburger con le patatine, non è così, non è che te che vuoi piglia e porta, la Costituzione è esigente, se ti vuoi portare via il diritto ti porti insieme anche il dovere, se ti vuoi portare via, come dire, una situazione di vantaggio, devi pensare che quella situazione di vantaggio è stata pensata solo per te e esige che tu lavori perché quella situazione di vantaggio sia una situazione di vantaggio che tutti i colori uguali si trovano nella tua situazione. Per fare questo c'è una sola strada, una sola, la partecipazione, con qualunque idea politica che abbiate di testa, con qualunque tipo di orientamento culturale, voi riteniate di starci nella partecipazione, ma ci dovete stare, ci dovete stare, perché è l'unico modo per essere un pezzo del motore della crescita del paese, ma anche per dare senso alla vostra cittadinanza, perché la cittadinanza solitaria, quella di me che sto davanti alla tastiera del computer e penso di dire parola costituzionale da solo, magari mentre, come dire, sto in un contesto che ha anche altre parole che non vuole avere la Costituzione, quella è la cittadinanza impotente, solitaria e impotente, l'unica cittadinanza che conta, che muove, che vi fa fondare, che dà dignità alla vostra cittadinanza e ne apre e ne sviluppa la potenza di cittadinanza, che è immensa se pensare i diritti fondamentali che stanno in Costituzione e che attendono l'opera vostra per diventare realtà per tutti, solo questa è la ricorda e questa si ha con la partecipazione. Infatti i costituenti individuano l'obiettivo di medio periodo per raggiungere la società giusta, l'unico strumento in grado di raggiungere i risultati di una società giusta. Io mi fermo qua, fatemi tutte le domande che volete e magari le organizziamo per tema, quindi io le sentirei un po' prima e quindi poi rispetto ai diversi temi facciamo una profonda intenzione. Bene, allora ragazzi, qualche domanda? Buongiorno senatrice, sono Matteo Simeone della classe 4e. Volevo farle una domanda al riguardo del leader Legis. Secondo lei è necessario riformare il procedimento legislativo per significarlo? Se sì, qualità deve il sistema parlamentare da lo fare? Grazie. Grazie. Salve, buongiorno. Secondo lei con un sistema micamerale imperfetto interveggio si durerete di meno? Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda sull'articolo 3, il secondo comment in particolare. Calama 3, diciamo, è stato quello che l'ha scritto, parlava di una rivoluzione promessa. Ecco, quando questa promessa, diciamo, è stata mantenuta e quando c'è ancora da fare? C'è qualcuno a tutti? Sempre a riguardo della significazione del processo legislativo, cosa ne pensa a lei del taglio dei parlamentari? Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere quanto vale rispetto a una legge proposta dal governo del Parlamento, quella organizzata da cittadini. Buongiorno. Grazie. 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 All'inizio ha detto che esiste una sorta di regalazione da parte di quei politici che partono nei social e questa regalazione non ha influenza il vapore della restituzione. Non è possibile che se quegli stessi politici manovati nell'istituzione non toccano questa istituzione? Grazie. 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 Grazie a tutti i cittadini inserite di parlare con questi termini. Il governatore della Asso e il governatore della Voglio e il governatore? Perché il governatore? che dica che il presidente della regione, il suo presidente del maggior campanile, sia il governatore. Il governatore è un'altra cosa. Come pure il termine premier, cioè l'indica in questo termine, perché questo finisce per essere una modifica sostanziale. Quando invece questa modifica non c'è mai stata. Quindi nel governatore ma il presidente della regione. Io sono stato presidente del Consiglio regionale, abbiamo fatto la riforma dello Stato, abbiamo riportato con le scuole questi problemi e vi dico che sia un fatto non formato. Non è una cosa da dire. Perché dire che Conte, il presidente del Consiglio regionale, il governatore, intanto è una società di tipo, diciamo così, indominati. Perché il premierato è un'altra cosa. Il premierato è un'altra cosa. L'altra cosa è un'altra domanda, ma l'altro problema che vorrei pure, perché la Stata di 10 fino a 10 anno possa accadirlo, è questa qui. Quando si dice che il popolo si vota una formazione politica, il popolo si è espresso, la sovranità popolare. E no. Ragazzi, bisogna dire una cosa. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, però poi dice che la eserce, questa sovranità, nei mori e nelle forme stabilite dalla legge. Quindi non è che basta prendere le voti perché si abbia, diciamo, il potere di decidere le cose. E' un'altra cosa importante che è l'assemblea costituente, prima di promulgare la costituzione, che entrò in vigore di 1848, con l'assemblea costituente che, finita la guerra, mi sa confronto le culture che avevano rappresentate, con la cattolica della socialista, comunista, avevano rappresentato un punto di riferimento, una battaglia della libertà con la cattolizia. Grazie. Allora, io mi piaceremo l'articolo 3 e poi affronterei tutte le domande che ci riguardano il procedimento legislativo. Stefano Rodotà ha definito l'articolo 3 un capolavoro, capolavoro istituzionale. E' un capolavoro, ci lavorano in tanti, l'idea originale e la stessura originaria e realtà. Fu di che io passo di Massimo Stefano Giannini a partecipare alla scrittura dell'articolo 3 e nelle sue diverse formulazioni, diciamo, i più grandi rispondenti del pensiero politico di allora, Cogliatti, Moro, Fanfani, Laconi, Lusso, Calmandrei naturalmente, Teresa Mattei, Ina Mechilina. E la storia, se vi capito alla legge, è per il dibattito sull'articolo 3, perché qui, secondo me, è molto interessante. Per tutta una serie di cose, anche un po' spiazzante, vi dico perché. Allora, il principio di uguaglianza, tra l'altro, è il principio più artificiale che esista. Ebbene, nella realtà, non siamo tutti uguali. che è giovane, che è vecchia, che è malato, che è vinto, che è povero, che è bell'otto, che è tessuto, che è... Ma non è bene, siamo tutti uguali. È un principio artificiale che i costituzionali possano a base invece dell'impianto costituzionale.